Beh, ascolta ragazzi, ma invece cercare di lavorare Perché non abbiamo amiche a TikTok? Sì, c'è Davide Abbiamo 40 anni Eh, però ti ho visto quante pina che fanno su E fanno dietro che mi è Buon cercare come va buon cercare Sì, dai proviamo, che sembra più furo per chi deve svelare Ahahahah Ma la sigla di Dierdizianelli è scantiva Invece che stare lì a un'erlucinanza in tre Lascia lì Giraldo e ti fai la galena che la raspa l'Indre Perché dite che glaccavamma mica? Perché tizzi grosso e lui che la faccia da stupido E glaccavi mica a far no con un bicicletto